Buona giornata! È facile comprendere Dio fino a quando non si tenta di spiegarlo. Joseph Hubert. Oggi vi porto questa frase di Joseph Hubert che è una cosa fantastica, specialmente per chi crede in Dio, ma anche per chi non lo crede. Ci sono cose che non si possono spiegare, perché queste cose vanno sentite con il proprio cuore. Solo con il tuo cuore puoi comprendere cose incomprensibili, come per esempio Dio. Non si può spiegare la bellezza e la grandezza di Dio. Come non si può spiegare la grandezza di un amore. Puoi spiegare perché quella persona ti ama? Non credo. Quindi oggi, mi raccomando, fai attenzione, senti, ascolta, porta la tua consapevolezza al tuo cuore. Perché solo così, solo in questo modo potrai comprendere e capire cose inspiegabili con la sola mente. Perché con questa non si va da tante parti. Con questo sì. Quindi mi raccomando, oggi ascolta il tuo cuore. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata! Ciao! Ciao!